E' in arrivo Laboratori dal Basso, la nuova iniziativa di arti e bollenti spiriti per i giovani pugliesi che vogliono portare in alto le loro idee, imparando a fare impresa secondo i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Laboratori dal Basso prevede tre diverse azioni. Testimonianze è l'iniziativa che aiuta i giovani pugliesi a incontrare i protagonisti dell'imprenditoria e dell'innovazione. Se vuoi proporre una testimonianza, cerca altre persone o organizzazioni con i tuoi stessi interessi e scegliete insieme un relatore da invitare. Indicate se possibile il luogo e la modalità di svolgimento dell'incontro. L'arti vi aiuterà ad organizzarlo e sosterrà i costi per l'intervento del relatore. Le testimonianze sono eventi gratuiti e aperti a tutti, vengono trasmesse in streaming e restano disponibili sulla piattaforma Laboratori dal Basso. Così se organizzi un incontro, diffondi conoscenza e innovazione in tutto il territorio.